ben tornati a vera mattina e grazie per essere ancora in nostra compagnia adesso spazio alla cultura con una gradita ospite do il benvenuto a Eleonora Tassoni di Braia presso eh la libreria rinascita di Ascoli Piceno un eh luogo davvero come dire dinamico sotto vari profili perché eh non è soltanto una semplice libreria ma è un polo culturale dove eh vengono organizzati diversi eventi ospiti tutto l'anno e eh libri insomma che vengono presentati proprio sotto la guida di Eleonora che oggi ci darà anche qualche eh consiglio per una buona lettura eh magari sotto il periodo delle festività natalizie Eleonora. Grazie mille. Tanto benvenuta ancora. Grazie grazie davvero. Grazie Stefania. Grazie a Vera TV. Sì eh la libreria rinascita ha un po' per vocazione da sempre quello di essere un centro culturale. Noi diciamo siamo una comunità leggente perché non ci siamo solo noi librai ci sono i libri, gli editori, le case editrici, gli autori e per questo Natale come ogni anno abbiamo raccolto diverse proposte, diversi diversi libri che andremo a presentare proprio nel periodo natalizio per segnalare no delle delle belle letture, delle belle occasioni, anche dei bei regali per per tutti quanti coloro che sono interessati. Ma fammi capire durante la pandemia è aumentata o è diminuita la vendita dei libri e quindi di conseguenza anche l'interesse delle persone a dedicarsi alla lettura? Ma allora guarda Stefania è stata una cosa stranissima nel senso che noi ci siamo trovati ovviamente come tutti nel primo periodo con la libreria chiusa e la possibilità solo di fare consegne a domicilio ovviamente eravamo terrorizzati dalla concorrenza che è evidente no delle mega realtà online che vendono libri senza fare nomi e invece si è vista una controtendenza. Noi dal giorno stesso del primo lockdown abbiamo ricevuto messaggi attraverso tutti i canali possibili dai social al sito il messaggino whatsapp per i clienti che hanno il nostro numero con la richiesta di libri e consigli di lettura. Ecco consigli di lettura soprattutto. Questo aspetto mi soffermerei perché poi da qui a internet c'è un mondo. Beh diciamo che la nostra fortuna è stata quella di avere veramente una comunità leggente per cui questa comunità non solo si è stretta intorno a noi che in qualche modo cercavamo anche di animare attraverso delle dirette sui social, delle presentazioni online, del racconto del libro insomma fatto in tanti modi diversi. Beh questa comunità si è stretta e abbiamo visto addirittura un incremento della lettura, dell'acquisto dei libri. Perché? Perché secondo secondo noi, secondo anche diversi diciamo studiosi, persone che hanno un po' analizzato la cosa, ci si è resi conto che la lettura è una di quelle poche attività che veramente in un momento di pausa forzata, di blocco forzato di tutto il resto, riusciva a farti passare la giornata senza sentire il peso del tempo. In fondo tutti gli altri hobby sono degli hobby che o richiedono appunto l'esigenza di uscire o comunque ti fanno sentire che sta trascorrendo del tempo. L'immergersi in un libro è capace veramente di trasformare una lunga giornata in un attimo perché cadi veramente in un altro universo. Io sono convinta di questo. Io tra l'altro da romantica vorrei anche sottolineare quanto è gradevole proprio avere tra le mani un libro da sfogliare e da leggere in cui appunto immergersi con la propria mente la propria immaginazione e lasciarsi un po' guidare perché è forse un come dire una sensazione che non può dare poi un libro sotto forma digitale. O no? Tu che cosa pensi? Forse sotto l'ombrellone sì. Ma allora ti dirò noi abbiamo avuto anche la distribuzione dei libri e book per diverso tempo in libreria ma abbiamo notato questo che il lettore ha bisogno di un rapporto fisico con il libro e la fisicità del libro data dalla carta ancora per la sensibilità insomma che abbiamo è fondamentale. Magari le prossime generazioni, i nativi digitali, quelli che adesso sono i bambini avranno meno meno problemi a saltare da un supporto all'altro. Poi è anche bello conservarli a casa e insomma l'importante è che si legga. Assolutamente. E allora veniamo a noi. Quali consigli possiamo dare ai nostri telespettatori? Allora io ho portato alcuni libri che che presenteremo proprio nei prossimi giorni in libreria perché in questo modo anche un po' per invitare gli ascoltatori di Vera TV a partecipare. Comincio con un libro molto particolare, ve lo metto a favore di telecamera, eccolo qua, la storia della disco music edito dalla casa editrice Epli. Questo addirittura lo presentiamo questa sera alle 17.30 proprio alla libreria Rinascita. Saranno con noi gli autori Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano. È un libro molto bello perché appunto sempre a favore di telecamera è tutto quanto illustrato e racconta la storia della disco music attraverso aneddoti, la biografia dei principali protagonisti, è proprio esattamente pensato anche con quello stile dal punto di vista grafico. Ed è un libro molto bello perché della disco music racconta anche l'impatto dal punto di vista della società e dei costumi. La disco music fu una musica e un genere musicale che promuoveva anche diciamo l'integrazione, il genderless, la fluidità, la capacità per ciascuno di sentirsi libero di essere chi voleva. E quindi penso che sia un libro che si adatta a questi tempi. Attuale. Assolutamente attuale. E questo appunto è la storia della disco music. Poi io vado avanti perché ne ho portati diversi. Vediamo. Questa è una cosa di cui siamo particolarmente felici, orgogliosi. Il 17 di dicembre, sempre alle 17.30, sempre alla libreria rinascita, avremo con noi Franco Faggiani. Franco Faggiani è uno degli autori italiani più amati e apprezzati, ha vinto numerosissimi premi, i suoi libri sono molto amati. È uno scrittore capace di raccontare la montagna. Questo libro in particolare, che si intitola Tutto il cielo che serve, edito da Fazzi Editore, come gli altri appunto di Franco, è un libro a cui siamo molto legati. È la storia di una giovane dei Vigili del Fuoco che si trova sulle montagne di Amatrice, per puro caso insomma, perché lei era lì per fare delle ricerche, la notte del 2016 di agosto, quando ci fu il terribile terremoto che ancora insomma, di cui ancora sappiamo e vediamo bene i segni. Questo libro racconta la storia di questa giovane comandante dei Vigili del Fuoco, del suo staff, dei suoi colleghi e di come hanno affrontato quel momento di difficoltà insieme appunto alle popolazioni colpite dal sisma. Quindi una storia dove in qualche modo viene celebrato il valore di questi uomini, dei soccorsi, delle istituzioni, ma soprattutto appunto delle, degli uomini dei Vigili del Fuoco che si sono veramente sacrificati per salvare, per aiutare le persone colpite dal sisma e racconta anche la forza di una comunità, la comunità delle montagne, delle nostre montagne, che nonostante tutto è stata capace di resistere, di stringersi, di aiutarsi reciprocamente. Insomma, un libro di cui siamo particolarmente felici di fare la presentazione proprio a Natale. E consentimi di dire, insomma, una popolazione che ancora resiste, tanti trascorreranno un altro Natale all'interno delle soluzioni abitative ed emergenza che tutti conosciamo, insomma, come chiamiamo SAE. Quindi, ecco, noi non intendiamo assolutamente spegnere i riflettori su questo e non lo faremo neanche questo Natale. E ecco, diciamo che questo sarà il nostro omaggio ai Vigili del Fuoco che faremo proprio in questa occasione. Vado avanti e passo invece a un graditissimo ritorno. Il 28 di dicembre, quindi tra Natale e Capodanno, proprio nel momento delle massime festività, torna in città Sandro Gerbi, che è un giornalista molto apprezzato, che con Neri Pozza ha scritto questo libro molto, molto interessante, è la biografia di Lisa Sergio. Voi direte, chi è Lisa Sergio? Lisa Sergio era una speaker radiofonica, una giornalista e fu una delle donne assolutamente più innovative ed emancipate della sua epoca. Nasce appunto come speaker radiofonica e come traduttrice, diciamo, nelle lingue anglosassoni dei discorsi delle istituzioni italiane dell'epoca, diciamo, del fascismo. Traduce e, diciamo, fa la traduzione simultanea in lingua dei discorsi di Mussolini, per un certo periodo è legata al fascismo, poi si rende conto, come tanti italiani, che il fascismo era una dittatura, era una forma, diciamo, di violenza nei confronti della libertà e ragion di più, poi andando a ragionare sulla, diciamo, la sottoscrizione da parte dell'Italia, delle leggi razziali, quindi diciamo, tutta quanta quel periodo di vergogna e di assoluta dittatura, Lisa Sergio decide di scappare, passa dall'altra parte e diventa poi nel tempo una delle più apprezzate giornaliste radiofoniche della sua epoca e in qualche modo vive tre volte perché riesce a, attraverso la sua voce, la sua capacità di raccontare, a superare anche, diciamo, uno dei periodi più bui della storia dell'Europa e del mondo e soprattutto a fare un cammino di consapevolezza verso quella che è la verità, quella che è, insomma, la realtà e trovo che sia una bella storia di crescita personale è un bel esempio di una donna che da altri tempi può insegnare ancora molto anche, no, alle giovani e ai giovani d'oggi. Poi a me piace molto, per esempio, attraverso la storia di determinati personaggi, capire ancora meglio determinati periodi, no? In questo caso il fascismo, ma poi, insomma, ce ne sono tanti di libri. Assolutamente. E in particolare Sandro Gerbi ha scritto anche una bellissima biografia di Montanelli, insomma, è uno delle penne, secondo me, più capaci di raccontare le vite vere mostrandone l'eccezionalità, la magia. Bello. Concludo a questo punto con un ultimo libro, questo è veramente una chicca speciale, questa è una nostra edizione, devi sapere che la libreria rinascita ha anche una piccolissima casa editrice che si chiama Librati, ma è una casa editrice specializzata in particolare nella pubblicazione di testi che vogliono ricostruire la storia, le tradizioni e un po' quello che è stato il passato di Ascoli Piceno e del territorio. L'ultimo libro che ha edito proprio e che è stato presentato da poco è l'edizione di una ricerca di padre Giuseppe Fabiani, che è stato, insomma, uno degli storici, una delle figure di intellettuali più importanti della nostra città ed è la ricostruzione della storia dei monti di pietà nel nostro territorio, in particolare questo si intitola gli ebrei e il monte di pietà di Ascoli Piceno, è una storia interessante perché ci racconta di un passato remoto della città di Ascoli, della comunità ebraica e della nascita dei monti di pietà che furono tra le prime forme di gestione del denaro capaci, insomma, di sostenere l'imprenditorialità cittadina ma anche appunto i bisogni dei cittadini stessi. Nel libro è interessante scoprire tante curiosità e in particolare il fatto che probabilmente la città di Ascoli fu una delle primissime città ad avere un monte di pietà, quasi in competizione con le famose città toscane dove sono nate le banche, dicono sempre tutti quanti. anche qui il libro ha delle meravigliose illustrazioni e ha una grafica particolarmente curata perché tra parentesi il curatore appunto il grafico che ha impaginato l'opera e che ne ha dato diciamo tutto il layout grafico è il professor Tonino Ticchiarelli che insomma è un po' una garanzia per questo tipo di lavoro. Allora regaliamo un buon libro, un libro di qualità in questo Natale. Ultima domanda Eleonora vorrei fartela sul Salone del Libro di Torino. Sì. Che esperienza è stata quella di quest'anno? Guarda noi siamo stati a questo diciamo salone un po' strano fatto ad ottobre ed è stata un'esperienza molto bella perché dopo due anni devi sapere il mondo del libro è un mondo in realtà abbastanza piccolo dal punto di vista della quantità di persone che ci lavora e ci si conosce un po' tutti insomma è come una grande famiglia ed è stato veramente come riabbracciare tantissimi amici l'emozione che che abbiamo provato girando per gli stand incrociando lo sguardo con amici editori amici autori persone dell'ufficio stampa degli uffici tecnici insomma tutti quanti abbiamo vissuto veramente una grande grande emozione domani inaugura più libri più liberi a Roma che è invece la fiera della piccola e media editoria e quindi andiamo a rifare di nuovo questo bagno confortante eh in mezzo a a tutti quanti gli amici del mondo dei libri e ti dico sono già state annunciate le date del prossimo salone del duemila e ventidue che se tutto va bene si dovrebbe tenere dal diciannove di maggio quindi invece un'ultima riflessione vorrei farla eh su sugli autori dei dei libri eh diversi intellettuali lamentano il fatto che eh gli editori eh prendono no eh come come autori e personaggi eh noti eh per eh garantirsi insomma le vendite a scapito poi eh di eh scrittori di un certo livello ecco che poi quando eh un eh un cliente entra in in libreria attratto proprio da volti volti televisivi insomma eh più o meno noti compra quel libro e eh perde forse l'occasione di conoscere altro ma voi come vi orientate? Allora guarda qui la risposta è duplice da un lato ti dirò noi come libreria rinascita non siamo una libreria di pile termine tecnico che indica le librerie dove ci sono quelle pile altissime no con eh no le le settanta copie del calciatore o con tutto il rispetto magari anche una cosa interessante assolutamente eh per capire un po' la tendenza di catalogo quindi tendiamo ad avere un un numero di titoli più ampio ma un numero minore di copie per titolo perché poi tanto i libri si possono tra sempre riordinare nel momento in cui magari c'è c'è l'esigenza ti dico questo però ehm noi siamo convinti che leggere sia un qualcosa che va bene sempre perché magari un ragazzo entra in libreria prende il libro del calciatore magari noi librai con il nostro consiglio riusciamo anche a proporgli qualcos'altro legge il libro del calciatore magari si rende conto che la lettura è una cosa piacevole rilassante eh distensiva e eh e torna e magari inizia più a fidarsi dei nostri consigli noi siamo dell'idea che leggere sia un po' come ehm cercare di esercitare anche una una sorta di crescita per cui il lettore va piano piano educato concludo la tua riflessione con una cosa che una volta mi ha detto un editore importante che pubblica libri molto belli di altissima qualità ma anche libri come diciamo insomma di più facile vendibilità perché appunto hanno dei volti noti o comunque dei protagonisti anche del mondo dello spettacolo della politica e dello sport eh come come autori mi dice guarda io sono particolarmente contento del successo di questo libro non ti dirò quale perché vabbè anche per una questione diciamo di di correttezza dice anche se non è niente di eccezionale perché con gli introiti che abbiamo fatto grazie a questo libro io adesso quest'anno mi posso permettere di pubblicare cose che altrimenti non avrei potuto pubblicare o che avrei potuto pubblicare con una tiratura più bassa e quindi con una distribuzione meno capillare quindi una visibilità minore quindi tante volte insomma avere no un un cavallo che corre di più ti permette poi di aiutare anche magari eh gli altri gli altri autori che hanno meno visibilità quindi magari meno capacità no di di bucare la la vetrina ma che riescono in questo modo comunque a essere a essere presenti ci stai dicendo insomma non bisogna per forza avere un atteggiamento snob ma accogliere la lettura per poi magari appunto scoprire anche altro assolutamente assolutamente anche il libro eh che è più denigrabile no dal punto di vista degli intellettuali dei radical chic io penso che nel momento in cui una persona lo riceve e magari quel libro è il libro giusto nel momento giusto che fa scattare no il il pallino il virus della lettura in un lettore è il libro salvifico per cui benvengano tutti i libri e anzi quello che diciamo sempre è questo molto spesso quando si entra in libreria tu entri per scegliere un libro ma è il libro che sceglie te bella questa cosa poi comunque regalarlo è sempre un po difficile quindi benvengano i consigli no del del libraio che può orientare poi in questo caso la la persona a scegliere il libro speriamo migliore per il proprio amico il proprio familiare quale migliore l'occasione in questi giorni per farlo perché assolutamente ci avviciniamo al Natale beh noi siamo ovviamente alla libreria vi aspettiamo con tutto il cuore con con i nostri consigli i nostri suggerimenti e tutti quanti libri che che sono insomma a disposizione grazie Eleonora per questa piacevole chiacchierata e per questi spero utili consigli grazie ancora ad Eleonora Tassoni ci fermiamo per una nuova pausa e poi torneremo a parlare di solidarietà a tra poco